Il pagamento delle sanzioni si porta a termine seguendo tempistiche e procedure previste, così da evitare raddoppi e applicazione degli interessi di mora, sapete che esiste la possibilità di pagare multe online? Ecco come fare. Pagare multa online, le tempistiche. Nel caso in cui non presentiate ricorso e dovete pagare la sanzione, avete 60 giorni di tempo dalla notifica per essere in regola. Con i pagamenti, che diventano solo 5 per poter pagare il 30% in meno. Ma quali sono le modalità di pagamento multe? Oltre alle classiche alternative come recarvi di persona al comando della polizia municipale o fare la coda agli sportelli, sappiate che esiste la possibilità di mettervi in regola anche telematicamente. In ogni caso, il nostro consiglio è quello di pagare il prima possibile onde e evitare qualsiasi genere di problema. Ma come pagare una multa online? Ad esempio tramite home banking della vostra banca, da cui, potete pagare anche il bollo auto, ma non solo pagare multa online, le modalità. Il pagamento delle multe online può avvenire in vari modi, e cioè, tramite home banking e bonifico bancario online tramite sito del comune, multa dalla polizia municipale tramite il sito di poste italiane, multa dai carabinieri o dalla polizia di stato. In ogni caso le procedure sono simili, cambia non solo le modalità, collegatevi al sito scelto, seguite passo passo la procedura prevista, inserite i dati richiesti. Questi ultimi solitamente sono, la targa, il numero del verbale, la data dell'infrazione e l'ora di notifica e i dati della carta di credito. Anche prepagata o ricaricabile, per effettuare un bonifico bancario per pagare una multa online basta essere registrati a un servizio o un banking legato al proprio conto corrente, selezionare nel menu la voce del pagamento della sanzione e fare i calcoli. Ciò perché la procedura non risulta istantanea. Attenzione, verificate che, in merito a ciò, una circolare del Ministero dell'Interno stabilisce che in questo caso lo sconto del 30% è attivo entro 7 giorni.